Panorama suggestivo e pressoché inedito quello della Torre Civica, simbolo di Varese, significativo, storicamente accattivante per la sfrontatezza tutta razionalista con cui sfida a distanza il campanile del Bernascone. Dalla data della sua realizzazione, 1938, ben pochi varesini hanno potuto salire in cima. Ora potranno farlo il 23 e 24 marzo, grazie alle giornate di primavera promosse dal FAI nelle sue varie declinazioni, la delegazione varesina, quella dell'Alto Varesotto e il gruppo Giovani. L'invito ai varesini è venire a vedere questo panorama e questo edificio che sta nella storia della città e ad aiutarci a capire se questa apertura provvisoria e sperimentale possa diventare in futuro una costante, in un'apertura al pubblico definitiva che possa ulteriormente valorizzare la città dal punto di vista turistico. Non solo Torre Civica comunque, saranno aperti al pubblico anche altri forzieri, storici e istituzionali normalmente trascurati, almeno nella loro componente artistica ed estetica, a cominciare dalla Camera di Commercio. La Camera di Commercio di Varese ha aderito con piacere a questa iniziativa organizzata dal gruppo Giovani del FAI, mettendo a disposizione gli spazi della sede camerale, in particolare del Salone Campiotti nel quale ci troviamo in questo momento per consentire ai turisti e visitatori di ammirare gli splendidi affreschi di Montanari. Il Salone Campiotti che si affaccia rappresenta secondo noi uno dei luoghi simbolo della città di Varese, tuttavia magari poco conosciuti, quindi davvero ci fa piacere poter aprire le porte della Camera di Commercio per poter ammirare queste bellezze che si trovano davvero nel centro della città. E proseguendo con la storica centrale idroelettrica di Ronco Valgrande, le chiese, gli angoli più affascinanti del nord della provincia, il comune di Barasso che conserva un'opera di Tavernari, il borgo di Mustonate. E poi infine abbiamo fatto un'apertura straordinaria in quello che anche molti varesini non conoscono ma che era l'ex ospedale psichiatrico. Quindi vedere un po' architettonicamente come era concepito e come dalla legge Basaglia in poi è cambiato il modo di curare le persone di malattie mentali.